In effetti si tratta di un'iniziativa nella quale vogliamo dare vicinanza alle aziende su delle problematiche concrete, augurandoci che ne vengano altre in futuro per parlare di problematiche che riguardano direttamente l'azienda. La fattura elettronica è un tema attuale, Confesercenti ha ritenuto di dover dedicare un seminario di approfondimento in partnership con l'ordine dei commercialisti affinché il tema possa essere affrontato a 360 gradi. Credo che l'obiettivo di oggi sia stato raggiunto e quindi ci auguriamo che grazie anche a questa buona iniziativa ci siano altre risposte positive da parte della platea associativa ma anche degli imprenditori di terra di lavoro. Tornate a parlare con i cittadini. Torniamo innanzitutto a parlare con le imprese, abbiamo visto che l'argomento ha interessato una platea più ampia della nostra base quindi vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Grazie. 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 Grazie.